Salve amici di YouTubers e benvenuti in questo nuovo video. So già che ho caricato due video, uno di Hunger Games e uno di Slender, ma volevo fare questo video per alcune richieste che mi hanno fatto alcuni YouTubers e volevo comunque fargli questo favore. Alcuni mi hanno chiesto di consigliare dei canali, quindi io li consiglierò proprio perché voglio aiutare. Poi spero che alcuni magari... adesso io non posso proprio farlo, ma io vi porto sempre con me, cioè non vi dimentico, vi metto sempre in descrizione. Ho visto molti YouTubers che mi hanno messo nei canali consigliati, vi ringrazio tantissimo e grazie perché mi state anche a me aiutando a salire, sono arrivato a 66 iscritti. Per me è già un traguardo, solo che io non posso fare regali di alcun tipo, non voglio manco che voi mi mandiate dei video con delle spin d'art per vincere, per arrivare ai primi. Perché non voglio disturbarvi e non voglio manco che vi ammazzate così tanto per me, quindi non voglio... comunque io vi ringrazio in ogni caso, cioè non è che non vi ringrazio. Anzi siete tutti fantastici, mi seguite, sia chi mette mi piace, sia chi non mette... sia chi mette non mi piace. Se vedete sto caricando i due video nuovi, quindi non vi preoccupate, quello qua, Slender, poi qua metterò i canali che vi consiglio e anche i canali che metto sempre di solito sotto. Spero che vi scriviate tutti quanti e vi diate una mano a vicenda. Ve lo chiedo per favore di aiutarci, cioè anche di aiutarvi a vicenda. Ok, mentre questi due stanno caricando, io faccio il mio lavoro, così a meno. Allora, il primo è lo stile di Pete, ve l'ho già consigliato in altri video. Lui voleva farmi una skin, ma a me le skin così non è che mi piacciono, cioè io volevo farla horror. So che la mia skin non è fatta bene, lo so perché ho sbagliato una cosa io e quindi non volevo rifare tutto da capo. Allora l'ho fatto trasforma su Photoshop, l'ho un po' allungato. Quindi raga, la lascio così per adesso, poi quando ho più tempo la rifaccio. Soltanto perché non ho tempo. Comunque lo stile di Pete ha fatto dei video di Dreamweaver con Photoshop. Molti video su Photoshop come creare delle miniature, sfondi, comunque in generale, anche loghi. Poi questo video sicuramente l'avete visto quasi tutti, ma a me un pochettino mi ha un po' come si può dire, non arrabbiato. Ma comunque non è bello scrivere un messaggio, devi crepare delle cose più atroci che ti possono capire. Questo qui comunque non è un bel modo di scrivere un commento. Anche a me certe volte mi scrivono non mi piace, mi mettono non mi piace senza motivo, così a cacchio. Senza manco mettere la motivazione. E anche certe volte, alcune volte mi becco degli insulti tramite messaggio privato perché non capisco perché non me li scrivono nel video direttamente. Se hanno più fegato lo scrivono sul video. Invece di scriverlo sui commenti, messaggi privati, fai video di merda. Cioè io non sono un tipo che va a criticare gli altri, non sono uno che va a dire tuffe video di merda perché come dico sempre io, i miei video di qualsiasi youtuber mi piacciono. Non sono il dio, non sono nessuno, quindi io non giudico manco negativamente. Io dico sempre cose positive. Proprio perché mi piace aiutare tutti e soprattutto non è... Cioè il pensiero mio lo dico, cioè la verità la dico. Ma non lo vado a dire in modo, come si può dire, devi crepare, devi morire, devi... No, io lo dico, secondo me quel video è sbagliato qualcosa. Ma sempre dicendolo, oh quando faccio video con questo cazzo di Camtasia mi esce questo messaggio. Allora, non vado a dirlo in modo da offendere in pratica. Allora, invece c'è molta gente che o insulta dicendo cose brutte. Vedete, ecco il background che vi dicevo. Cioè a me piace anche così, non... So che ci sono alcune cose pizzellose, come si può dire, ma è perché l'ho fatto apposta. Cioè ho preso i due personaggi di Timitarne e nel padere di Timitarne l'ho messo così. Anche questo, questo qui l'ho preso apposta così. Non è che... Lo so che tutti quanti non hanno i pizzelli all'esterno. Come questo qui o questi due, ma l'ho fatto proprio apposta. Proprio perché non volevo, prima di tutto, ammazzarmi più di tanto. E seconda cosa, mi piace più così. Ehm... Guardate Timi, guardate quanto è felice di stare col papà. Ah, grazie. Sono arrivato a 66 iscritti. Meno male che non c'è un altro 6. Se no, altrimenti sarebbe brutto. Ehm... Dovevo consigliare questi canali. Così o meno? Come al solito vi zoomo i canali. Cioè se li dico tutti quanti è un casino. Ma totale la maggior parte di voi si sarà già iscritto. Dovevo riconsigliare GCR Studio HD. Poi Lugia98 che mi ha detto di consigliare un altro canale. Ma devo... Devo andare a vedere quale canale era. Perché non me lo ricordo. Adesso infatti vado a vedere nei commenti e ve lo dico in diretta. Così almeno non... Ehm... L'altro youtuber se è questo... Ehm... Questo... Questo l'ho già detto. Questo ve l'ho già detto. Povard gameplay sarebbe... Seventi... 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 E vaffanculo. Fantasy 7. Ehm... Giacco ha cambiato il logo. Quindi iscrivetevi perché ha fatto un nuovo logo. Ehm... Come stanno... Ok. Ehm... Ok. Allora il canale di... Try Arts Smurder 94. Io mi sono già iscritto. Ehm... Per adesso non ha caricato video. Ma spero che caricherà video. Voi intanto iscrivetevi. Poi magari farà video. Spero che farà dei video su gameplay. O comunque qualcosa di importante. Ok. Poi Christian Arcadi. Spero che c'è... Arcadi. Ok. Ehm... Anche lui non ha caricato video. Io sono quasi tutti iscritti senza video. O magari hanno pochi iscritti. Però comunque va bene. Dai. Importante che siano persone comunque... Che non hanno creato un canale così tanto per crearlo. Ehm... Comunque. Adesso non ha caricato video. Comunque io ve lo metto in descrizione. Voi iscrivetevi. Poi magari farà video. Magari è impegnato. Non può. Quindi... Ve lo consiglio. Christian Arcadi. Ve lo metterò in descrizione. Poi. Pietro Galbucci. Ha 30 iscritti. Ha 679 visualizzazioni. Ha caricato un po' di video. Come canale in primo piano. Vabbè. Non... Ci sono altri youtubers qua che io non conosco. Saranno quasi tutti inglesi. Comunque ha fatto dei video su preannuncio video. Ha fatto dei live. Un po' di live. Poi ha fatto dei video su Happy Wheels. Ha fatto una intro. Che poi questa intro io la vedo dappertutto. Questa intro. Quindi non so di chi è veramente questa intro. Ehm... Yogbots episodio 1. Sarebbe Minecraft. Tanti video di Minecraft. E Happy Wheels. Quindi se vi piace... Se volete iscrivervi. Iscrivetevi. Io mi sono già iscritto. Quindi Pietro Galbucci. Ve lo metterò in descrizione. GCR Studio HD. Mi ha chiesto di nuovo di pubblicizzarlo. Mi ha messo anche i suoi preferiti. Quindi ti ringrazio. Vabbè. Perché è giusto che ti ringrazio. Poi ditemi anche voi se qualcuno mi ha messo. Cioè voglio ringraziarvi. Non è che magari non me lo dite. Mi avete messo lì. E non lo so. E mi dispiace che non gli ho ringraziato. Io purtroppo come ho detto prima. Non vi posso mettere qui. Perché è un casino. Ce ne sono tantissimi. Cioè certo dovrei togliere alcune persone. Che magari non gliene frega niente dei miei video. E li ho messi qua. Nei canali consigliati. Io ho messo diciamo più le persone che mi seguono. Poi spero che questa gente mi segua. Ok. Ritorniamo al discorso. Allora. Fa video. Ha fatto una intro nuova. Che è questa che ho già vista. Poi ha fatto i migliori giochi per Android. Poi ha fatto Gamma Style. Vabbè niente. Ha fatto vendere il mio Mac. Quindi se vi interessa comprare un Mac. Guardate questo video. Poi la partner inviata la richiesta. Ok. Questo. Io come sempre al solito devo chiedere a qualcuno di farmi la background. Però il background tengo questa. Per adesso perché. Finché non trovo una persona che mi fa quel background. Tipo il mio. Come questo che ho fatto io. Così lo vorrei io. Con un po' di amnesia. Un po' di slender. Un po' di pagine di slender. Con Timmy. Il pad di Timmy. Però in forma IP Wheels. L'alieno di Minecraft. Un po' renderlo horror. Questo canale. Anche tipo mettere. La cosa di Facebook. Horror. Il coso di Skype. Horror. Tutto horror in pratica. Qui ho messo pure Witch. Il gioco dove c'è quella lì. Che mi ha coltellato 5 volte. In un video. Non l'ho caricato qua. Ma l'ho mandato a Zorro and Friends. Solo che vabbè. Di solito i video non li accettano. Io vabbè. Volevo soltanto metterlo così. Tanto per provare. Come tipo. Come i great vinci. Volevo provare. Ha fatto delle intro. Anche qua io trovo molte intro così. Che ho già visto in tanti canali. Comunque vabbè. Non è importante questo. Importante i suoi video. Come salare. Nodus HD. Poi ha fatto video su Minecraft. Come installare. Trausi. Per. Mac. Si. Mac e Windows. Trausi per cinema 4D. Quindi. Ve lo consiglio. Iscrivetevi. Se non l'avete già fatto. Lui era 71 iscritti. 66. 69. 79. Me ne mancano 5 a me. Mi mancano 5 iscritti. Per arrivare a 71. Come. Tecnotube. Tecnotube. Credo che sia arrivato. Molto. Ma molto. Più avanti di me. Credo. Spero che non si sia fermato. 85. Porca pupazza. Io sono indietro col mio programma. E sto caricando un casino di video. Proprio per farmi notare raga. Perché voglio consigliare canali. A meno che. Non sto calando. Perché sto facendo solo gameplay. E che la gente vuole solo vedermi quando consiglio solo canali. E poi quando faccio gameplay non gliene sbatte nulla. Allora questo. Vabbè. Allora farò solo consiglio. Consiglierò solo canali. Allora. A questo bus. Se è solo per quello che mi seguite. Farò solo quello. Comunque. Come stavo dicendo prima. GCR Studio. GCR Studio. Iscrivetevi. E commentate. Comunque. Ecco. Parlando di 666. Lui prima era 666. L'ha superato. Meno male. E' arrivato a 6669. Lugia. Lugia 98. Ve lo consiglio. Iscrivetevi. Aiutatelo. Anche perché un pochettino lui aveva dei video. Gli erano cancellati tutti. Come ho detto negli altri miei video. E a proposito. Se qualcuno ha visto il mio altro video. Dove ho consigliato canali. E ho consigliato un canale. Io che aveva insieme. Ho consigliato anche un suo amico. In quel canale. E spero che l'abbia avvertito. O anche quello lì che l'ho consigliato. L'ha visto il video. Perché se no. Non avrebbe senso. Cioè consiglio canali. Poi la gente mi dice consigliami. Poi però il video non te lo guardo. Cioè sarebbe meglio che lo guardi. Che caso. Se no non ti consiglio. Cioè non avrebbe senso. Era questo il video. Ho consigliato il canale. Ehm. Ah il canale di Gelo. E' quello di Supermilenist Hacker. Quale avevo consigliato. Non me lo ricordo più. Vabbè. Comunque avevo consigliato dei canali con. Di youtubers. Ma non so. Eh. Aspetta i commenti. Non i commenti. Porca mia. Mi sto incasinando. Ok. Lugia98. Mi aveva detto un canale. Adesso io me lo devo ricordare. Se no. E' un casino. Qui me l'aveva scritto. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace tu. I commenti. I commenti. Cazzo che fa. Eh. Gameblast. Eccolo qui. Eh. Su Google. Eh. Gamma style. Oh. Eccolo qui. Entra sulla pagina però. Ok. Eh. Io mi devo scrivere però. Non sono dimenticato. Spero che lui lo vedrà il video. Avvertitelo. Lugia98. Se lo conosci. Avvertilo. Che. Che lo sto consigliando. Perché se no. È inutile. Se no. Dovande 50 messaggi privati. Comunque. Lui fa video su. Un po' vari giochi. Quello che siano per il PC. Ha fatto Diablo 3. Eh. TCT Gov 3. Eh. Is. I. Is. My. Business. Parliamo di Kinect. Pro Seriect. Di nuovo di TCT Gov 3. Non so se. Devo dirlo tutto. E in una singola lettera vuol dire un significato. Non so se vuol dire God of War. Non credo. God of War è un altro gioco. Eh. Gamping Zone. Diablo 3. Ho fatto. Happy World. Happy World. Eh. Diablo 3. Di nuovo. Comunque. Fa video in generale. Quindi se vi piace un canale così. Che fa video in generale. Di tanti giochi divertenti. Guerra. Un po' in generale in tutto. Andate su Game Blast. Ve lo. Eh. Ed è un bravo youtuber. Se già ho visto. Alcuni video sui li ho già visti. Soltanto che non mi ero iscritto. Perché dovevo ancora consigliarlo. Quindi io quando consiglio. Mi iscrivo subito. Perché poi me ne dimentico. Se mi iscrivo e poi dopo faccio il video. È un casino. Mi dico. Ma qual è la youtubers che non mi sono iscritto. Allora gli clicco tutti quanti. E vedo dove non c'è scritto iscritto. E così faccio prima. Infatti per quello. Infatti adesso non me lo stavo ricordando. Quanto sono veloce quando parlo. Dovevo aprire un'altra pagina. Perché. Ecco. Forse la game. No. Era. 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 Allora. Qual era il canale che. Avevo consigliato in un altro canale. Ma. Non so. Adesso. Orpcgames. La freccia blu. Spariam 5717. Ricordatevi. Quelli che dico dovete iscrivervi. Adesso non è che posso beccarli tutti quanti. Dario Moccia. Sto guardando proprio adesso perché. Sto guardando. Dov'è. Quelli youtubers. The World of Games. 1000. Poi. Virus Italia. Feb. 100. Mr. Maghero. Mr. Maghero. E vabbè. Lo conoscerete tutti. Darkwinds 95. Sto per digerire la cena. Me la godo. Luke. TNG Italian. TNG Italian è un altro canale che ti. Che vi. Che vi consiglio. In pratica. Vi mandati il video. Loro lo pubblicano in quel canale. Se lo accettano. Dov'è questo canale. Sto diventando scemo. Quanti minuti sono passati. 16 minuti. Mamma mia. Muoviti. Ah ecco. It's Ghost Death. Dr. Cogli si ve l'ha sempre consigliato. Non c'è un video di quella persona. Fosco. Fosco. Basta. Vengo con il mio canale. Su. Veloce. 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 66 iscritti. Questo comunque è un record. Per me. Master DJ. Eccolo qua. Crazy Craft 871. Spero che lui guarderà questo video. Perché l'ho consigliato anche nell'altro video. Dove consigliavo canali. Ma. Penso che non l'abbia visto. Dovessi avvertire. Il tuo amico. Perché ho consigliato anche a lui nel video. Adesso spero che non parta il video. L'ho consigliato. Canali di The Mine APB. Che poi. Non ditemi cosa. Io dico APB raga. Perché non è scritto proprio. Non è scritto una parola unica. È solo letterine. Quindi io lo dico come si pronuncia. Come qua. Tutorial HD 1000. Non è che dico 1 0 0 0. Lì si capisce che è 1000. Mi sono già iscritto anche al suo canale. Quindi avvertili. Avvertili a tutte e due. Perché io. Gli sto consigliando. Il mondo di Ghost. Che anche lui mi ha messo come. Come primo piano. Lo ringrazio. Che ha preso. Ha detto che lui ha preso spunto. Dal mio. Dalla mia. Ma io pensavo. Invece di restere io. Che ho preso da lui. Infatti dopo ho detto. Cazzo. Ho copiato. Una background di un altro youtuber. Se l'ho detto. Porca miseria. Adesso che faccio. La devo cambiare. E me la sono cambiata. Però alla fine lui mi ha detto. No no. È Bayon Community. L'ho preso spunto. Da Bayon Community. Io ho detto. No cazzo. Ma l'ho cancellato. In pratica. Ci sono rimasto male. Comunque. Crazy Craft. 871. Avverti. Comunque. Che. Ho consigliato. I loro canali. Sia canali. The Mine. APB. E tutorial. HD 1000. Così almeno. L'ho detto. Se vogliono iscriversi al mio canale. Lo facciano. Se vogliono seguirmi. Non sono obbligati. A seguirmi. Cioè. Iscriversi al mio canale. Solo perché li ho consigliati. Quindi. Li ho detti tutti. Poi me li devo anche ricordare. Di mettere in descrizione. Perché sono un casino. Vi faccio vedere subito. Veloce. Zoomato. Come al solito. I canali. Così voi. Dovete solo leggere il nome. Alla fine. Dovete solo bloccare il video. E aprire un'altra pagina di YouTube. E cercare i YouTubers. Fate prima. O se no. Cliccate direttamente. Col tasto centrale del mouse. I link di YouTube. E ve li apre tutte quante. Mozilla. FIFOS. Dipende. Che sistema. Cioè. Che browsers. Usate. Allora. Io ve lo metto. Zoomato al massimo. Così. Non trovate scuse. Che non leggete. Nikon99. Eita. Master Christian 200. Antonio Magic. Master Gaming 79. Piotriz. 000. Canali di. Go. Si. Creep. Minecraft. HD. Super Milanista. Che è detto. E. Not. Arts. Community. Vital Sister. Che serve il mio canale. C'è un nuovo iscritto. Io prima ne avevo 17. No. Serk. Banan. Lugia 98. YouTube. Hop. Ita. The Mind Entry. Gameplay Italia HD. Ok vabbè. The Sirius Conners. Mastodon. Ad 143. Diissimo. Ghiro Informatico. Spedium 5717. Scusate se lo dico troppo veloce. DCR Studio HD. Faccio prima invece ve li faccio leggere. Qui invece. Dovete per forza leggere il nome qua. Master 99 Gamer. Sba Tutorial. Canale di Fangelo89. It's Fratelli di Community. Livorno Regna. Che sarebbe anche il canale suo. Now in name. Addis Vendetta. Cubretto 2012. Fantasy 7. Che ha cambiato logo. The King of PC 10. Ora il channel sarebbe solo a 1958. It's been a long time. Questo è un canale che avevo già consigliato in un altro video mio. Quanto siamo? 20 minuti. Con 27 iscritti. Iscrivetevi. Che fa video di Minecraft un po' in generale su vari giochi. Tecnotube. Live Free or Let Me Die. Diè. Ho scritto Diè. Iscrivetevi. Belling Sonic. The World of Gamers. La Freccia Blu. Killlander 93. Dr. Kobits Krodak. Tutorial 1000. HD 1000. L'avevo già detto. Master TJ e TJ Creeper. Daliko. Tutti veloci. Coraggio. Un pollo. Canale Super Horror Home. Run My Others. Master Video Plus. Il canale di Frank. Giacco. It's Electives. Racconti di un Minecraftiano. Allcraft 97. Il mondo di Ghost. L'ho già detto. Ore Ghost. Power Gameplay. Gameplay versus Players. Virus Italian. Non Name. Canale di... Lo devo ripetere. Che sono un po' di mentico. Il mondo di Ghost. Oggi ho detto nel... Prometero in descrizione. Canale di... Tsi Arts Mother 94. Dark Windows 95. Crazy Craft. 61. Ricordati di avvertire l'oro. I tuoi amici che ci sono nei canali consigliati. Mr. White Design. Che sarebbe... Non vorrei sbagliare. Master 99. No. Horror PC. Horror PC Gamers. Sì. Non devo... Ah. Ecco chi gli ha fatto il logo. È stato lui. Grande. Grazie Gianni. Ok. Andare le mie cazzate di... Richard Benson. Canale di... Ardus. Questi lo... Ah. 85 Ago. Che mi ha detto di consigliarlo di nuovo nel mio canale. Quindi ve lo consiglio. Iscrivetevi. Ecco cosa mi stavo dimenticando. Il Christian Arcadi. Iscrivetevi. 85 Ago. Che mi ha chiesto nei commenti. Se mi ricordo. Il mio canale. Commenti. Cosa se leggo il tuo commento ma... Devo essere sicuro che me l'hai chiesto tu. Ah. Scritto ricambi. Questo messaggino io lo odio. Comunque Crazy Craft 81. Sto scherzando. Cioè vabbè. I messaggi tipo ricambi. Io di solito mi iscrivo senza bisogno di scrivere ricambi. Perché lo faccio proprio perché quando vado un nuovo iscritto lo consiglio subito. Quindi tranquillo. Non scherzo. Non sto dicendo sul serio. Mi sono già iscritto. Quindi se no ti metti avrei detto no non mi iscrivo. Ah si 85 Ago. Ciao amico senti non so se hai ricevuto il mio messaggio. Comunque mi potresti fare pubblicità nei tuoi video. Si. Ok. Si è lui. Non lo ricordo. Si 85 Ago comunque. Dovete iscrivervi. Ha fatto dei video in generale. Quindi non fa solo video di tutorial. Insomma non fa solo un genere. Adesso sui ultimi video è stato il progetto Drago. Ha fatto. Fa delle. Degli speed art. In generale. Adesso fa degli speed art. Adesso fa degli regali per gli suoi iscritti. Mi ha fatto anche a me una. Uno speed art. Eccolo qua. Speed art per Banyone Community. Io questo video l'ho visto. Una settimana dopo. Cioè lui l'ha caricato due settimane fa. Io l'ho visto una settimana dopo. Non mi era accorto che lui mi ha fatto una speed art. Forse perché il video non sono riuscito a vederlo sulla home. Quindi dopo quando l'ho visto ho detto. Cavolo grazie. Cioè non mi sono accorto. Lui mi ha fatto. No tranquillo. Non ti preoccupare. Meno male. Pensavo che se la prendeva male. Quindi raga. Per questo video è tutto. Spero che il video vi piaccia. Anche se sono 24 minuti. Scusatemi per il tempo che ci ho messo. Ma è giusto che voi lo seguiate tutto. Perché vi sto consigliando. E Conan. Ciao Conan. Comunque. E vorrei che comunque lo seguiate tutto. Così almeno sapete anche chi sono gli altri iscritti. Non solo. Perché. Solo a voi. Se non è per. Aspettate che consigli il vostro canale. Poi chiudete il video. Meglio è giusto che vi guardiate tutto il video. E poi dopo vi scrivete a vicenda. A meno. Non facciamo casotto. Dai. Non voglio trattenervi molto. Tanto la sigla dura sempre 48 secondi. Quindi 24 secondi sono 25 qualcosa. Che palle. Devo cambiare anche intro. Ho chiesto a. Fantasy 7. Di farmi una intro horror. Tipo. Con un video di slender. Che ci sono le scritte horror. Un po' la grafica horror. Non so se qualcuna me la può fare. Faccio un. Un appello. Dove. Una intro horror. Dove ci sono un po' di cose horror. E poi magari lo slender finale. Che ti appara all'improvviso. E si spesso. E si chiude la intro. Una cosa. Una cosa horror. Dai. Non voglio. Mettere più dettagli. Tipo scrivere un commento. Mettere le scritte. Dice. Bayon Community. Consigliare i vostri canali. Anche se non siete iscritti. Lo fa con piacere. E poi la scritta. Con il video finale. Lo slender. Che ti appara all'improvviso. Con scritto. Bayon Community. E l'http sotto. Cioè questo. Youtube. User. Bayon Community. Punto. Questa cosa qua. Comunque. Per questo video è tutto. Un saluto da Mega Mr. Horror. Ciao.